Meglio di un invito a cena, c'è solo un invito a corte. Alla corte del re Porcino. Siete tutti invitati alla Sagra del Fungo Porcino di Lariano, dall'8 al 18 settembre. 26esima edizione. Aree e mostra e degustazioni al coperto. Prodotti tipici e spettacoli musicali per un divertimento assicurato. Tutte le sere, un primo piatto a scelta a base di funghi porcini. Un panino con pane di Lariano e funghi porcini. E un bicchiere di vino dei Castelli Romani dall'8 al 18 settembre. L'unica inimitabile Sagra del Fungo Porcino è solo a Lariano.